e poi Pigliacelli che esce palo al piede ma dove va? Pigliacelli sino a metà campo saltato Gori, azione personale di Mirko Pigliacelli è arrivato al limite, poi scarica su Manconi impazzito Pigliacelli, ma di sicuro non ha sbagliato Manconi scarica il tasto, l'area è spinta Anima Music Non, la faccia con un'amia Si non è, non ci sono Non è possibile, non è possibile Bologna quel momento Non è la prima Il Rado, non è la prima C'è la prima Sì, non è stata È l'amia L'amia Il mio figlio, il mio figlio è il mio figlio. Stenly Menzo piupte grazie per il suo progetto, ma questo è un giocatore di giocatore di giocatore di giocatore. and then score. You have to do it! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.